Musica Teste di prodotto, eventi e formazione, sperimentazioni professionali, esposizione e live show. Domenica 7 maggio al via la seconda edizione del Music Inside Rimini. L'unico evento in Europa dedicato interamente alla musica e allo spettacolo dove è possibile provare dal vivo la tecnologia delle aziende leader di settore. Effettivamente il format che abbiamo trovato per questa manifestazione sembra che stia dando davvero i risultati che ci aspettavamo. Forse, ci metto un forse davanti, sta nascendo un nuovo astro dentro il firmamento del nostro portafoglio fieristico. Ieri sera c'era una platea di giovani di 15.000 persone alla manifestazione che ha dato davvero una forza e una carica davvero impressionante. Un formato originale dunque il Music Inside Rimini in grado di mettere assieme e coinvolgere attraverso momenti ed eventi dedicati il B2B, il B2B Expert e il pubblico. La madrina di questa edizione 2017 è stata Anna Falchi. Sono appena arrivata e giustamente mi sto prestando a qualche fotografia con il pubblico. Io sendo romagnola chiaramente sono cresciuta anche nel mondo delle discoteche con la musica che è sempre stata la mia passione, ho sempre amato ballare nelle discoteche, quindi viva il Mir 2017, manifestazioni come queste, e soprattutto chiaramente in Romagna che offre naturalmente al turista sia la location, naturalmente le strutture alberghiere, così come l'intrattenimento, chi meglio di noi può promuoverlo così come stiamo facendo quest'oggi. Grazie!